allora catena, corone, pignone e parastrappi vabbè non si vedono tutto nuovo abbiamo fatto ormai tre giorni di giro e adesso va registrata perché la catena si è rodata come si è fatta si è rodata quindi ha preso di nuovo un po di gioco quindi adesso andiamo a tirarla e siccome abbiamo una partenza imminente stiamo facendo giacché un check sugli attrezzi questi sono i miei e basta e basta ovviamente più altre pinze qualche altra cosa mentre questa è la truss di attrezzi di stefano che anche lui si è reso conto che forse sono un po troppi questi attrezzi sicuramente tutto questo set di cacciaviti qua dentro di bussole e tutto questo set di chiavini l forse un po troppo quindi farà anche lui una cernita mi toglierà l'eccesso andando a diminuire peso e dimensioni degli attrezzi io con questi attrezzi qua bene o male riesco a intervenire un po dappertutto quello che mi interessa vedere adesso è se riesco a registrare la catena con gli attrezzi qua quindi andiamo ad allentare la gomma faccio una piccola parentesi sì è necessario che ognuno veda certo che attrezzi deve avere per la propria moto certo ogni moto ha i suoi attrezzi per esempio nel nostro viaggio ci saranno tre ragazzi con tre t7 quindi sono uguali loro possono dividersi gli attrezzi così si smaltisce un po il peso perché nessuno si porterà nulla io sono l'unico con una onda e quindi ovviamente devo provvedere da me siamo al mare già si iniziano a sentire vociare bambini cose va bene allora non so se si è notato io non è che ho fatto chissà quale fatica a svitare questo bullone perché stringere a morte soprattutto quando magari siamo in un viaggio dove probabilmente qualche aggiustamento qualche manutenzione la dobbiamo fare stringere a morte potrebbe essere controproducente perché di certo non mi porto la diamometrica da un metro questo dato il mio mi pare che fa non mi ricordo sia 190 newton metro quindi immaginiamo magari in mezzo delle campagne andando da svitare potrebbe essere un po quindi si stringe bene si serra bene piuttosto ogni tanto lo controllo durante il viaggio di stringere a morte che potrebbe essere controproducente un problema ok non lento ancora un po si sta ok ora dovrebbe essere sembra dodici da qua 12 esatto quindi ho la mia 12 e allento il fermo del registro di qua torgia pronti vogliamo? uno due e si ho un'altra che fai? ma adesso è Angelica pronti? Angelica pronti uno due intanto volano bambini ok e se non sbaglio questo è un 10 10 10 10 10 quindi uno due e tre la stessa cosa dall'altra parte ma che amore? uno due vedete che inquadra qua part e tre si vede che si tira? e si alza ok ovviamente la sto tenendo premuta abbattuta qui questo qui lo sto tenendo abbattuta ok io ho un altro pochino perché avendo allentato il perno che ci siamo ok quindi ma dovremmo misurarlo col peso sopra? allora si bisogna considerare che quando ci sediamo sulla moto che la togliamo dal centrale questa si tira quindi io adesso ormai la moto mia la conosco so che quando fa questa cosa qui sono a posto però se non sbaglio qua guarda qua e ogni moto ce l'ha eh qua mi indica che ci deve essere un 40 mm di gioco non so se si vede si vede si vede ci deve essere un 40 mm di gioco ok in aspetti c'è se la voglia c'è questo 40 mm di gioco ma tipo alla tuareg c'è eh andiamo a vedere vediamolo ecco io meno gioco ad esempio qua no quanto dice? ah di più è vero più gioco c'ho perché so più gioco io? che c'è? beh ogni casa gioca di più dell'altra gioca di più dell'altra allora adesso io ho contato i giri del registro ma per essere sicuri o abbiamo delle tacche di misura che qua io ce le ho delle tacche di misura ma ovviamente sono sporchissime non ho riempito una tacca io mi prendo un punto di riferimento non ho qua con me il calibro che ovviamente ho in officina a casa adesso ho trovato questa fascetta prendo un punto di riferimento quindi da battuta qua a qui col dito ok più o meno vediamo se ti vuole uguale molto rudimentale eh molto rudimentale e ci sono ci sono ci sono punto di riferimento ci sono perché i giri erano quelli alla fine i giri erano quelli quindi ok la catena dorata è nuova nuova ok ci siamo questo qua vabbè dalla telecamera sicuramente non so se si vede qua mi sono fatto un punto di riferimento con con l'unghietta con l'unghietta che unghie nere va bene è il caso di dire accendrimetro accendrimetro ora abbattuta abbattuta ho stretto con le mani io adesso prima di stringere il registro ristringo la ruota così siamo sicuri una battuta è abbattuta con le mani fai una battuta? basta soltanto jingle il piccolo fill di batteria va con un po' di forza brutta ma neanche tanto ok non ci salgo sopra col peso perché superando i 110 kg con tutta l'attrezzatura vado a stringerlo esageratamente troppo ma ce le mettiamo 40 kg di gamba? mettiamo 40 kg di gamba non serve mi permette di 40 kg di gamba dai di meno così basta basta quindi vabbè video giusto così per giocare un po' in prossimità in arrivo di un viaggio alla vigilia di un viaggio organizziamo un minimo di attrezzatura e noi dobbiamo partire per un bel viaggio bello lungo e quindi era giusto durante questa giornata giornata di allenamento giornata di training in fuoristrada abbiamo sempre l'attrezzatore ho dovuto rodare si è rodata la catena si è allentata approfittiamo adesso vediamo se abbiamo tutto l'occorrente per fare questa piccola manutenzione adesso che ho serrato il bullone della ruota serro con delicatezza i registri questo dato del registro si osserva con delicatezza quindi magari lo teniamo fermo teniamolo fermo con questo lo tengo fermo appunto ok tengo fermo e basta perché questi sono delicatissimi quello che tiene è questo quindi bloccare a morte questi qui non serve a nulla va bene quindi da Daniele e da Stefano è tutto ok e basta e da Casalabate questa ridente cittadina sul mare del Salento del Salento del Salento come si si può dire oggi bella giornata da motocicletta team un saluto gas brillante e ci vediamo al prossimo video ciao